Beh, sicuramente mettermi subito al servizio in relazione delle donne e gli uomini che lottano nei propri territori contro le condizioni di assoluta invivibilità. Penso alle mamme di Taranto, alle mamme della Terra dei Fuochi, alle mamme di Muos e a tutte le donne che in questi anni sono state in prima fila in Val di Susa come anche a Venezia, nella mia Marghera, a difendere l'ambiente, a difendere il futuro delle proprie figlie e dei figli e a dare la possibilità alle nuove generazioni di avere una terra sana, un ambiente capace di produrre la vita e non di dare la morte.